faccio il ciclo fattorino ormai da più di due anni ho iniziato perché avevo bisogno insomma di affiancare un lavoro che facevo part time un altro lavoro per riuscire ad arrivare alla fine del mese campare i requisiti per questo lavoro sono che tu abbia in possesso uno smartphone e il mezzo cioè o una bicicletta o uno scooter dopodiché io ho fatto diciamo un incontro con i miei datori di lavoro in cui mi è stato un attimo spiegato come funzionava il tutto mi hanno fatto scaricare un'applicazione e da lì ufficialmente sono entrato nella flotta come si dice in gergo cosa è successo che lavorando mi sono accorto che i problemi erano molti e cioè innanzitutto io non ho firmato neanche un contratto e ho iniziato a lavorare praticamente senza nessun tipo di tutela di garanzia di sicurezza perché appunto noi non abbiamo assicurazioni sugli infortuni non abbiamo ferie malattie contributi e però abbiamo iniziato ormai appunto due anni fa a incontrarci con i vari riders no con i colleghi sia della stessa piattaforma ma anche delle altre piattaforme e abbiamo iniziato a incontrarci per le strade perché ricordiamo che la città e la strada è il nostro luogo di lavoro quindi abbiamo iniziato a parlarci e abbiamo visto e capito che anche nonostante la differenza di colori di borsoni eravamo ben o male accomunati dalla stessa situazione e c'è una situazione appunto di precarietà di ricattabilità di assenza di tutela e di diritti l'assemblea europea è andata molto bene a livello di partecipazione ci sono stati collettivi sindacati di riders che si sono organizzati in percorsi di lotta provenienti da spagna francia scozia inghilterra germania finlandia ed austria e ha portato alla creazione di questo nuovo soggetto che ancora via di formalizzazione ma che è riuscito a creare ora come ora in fase embrionale una giornata molto importante che è stata quella del scorso primo dicembre di azioni dislocate scioperi contro contro le piattaforme digitali del food delivery c'è stato un momento molto utile di discussione anche per capire vari regimi giuridici diversi ma anche soprattutto di altre esperienze insomma magari come sono quelle delle cooperative che hanno preso piede un po in francia e in belgio in spagna dove appunto si sta cercando di fare anche un discorso un po diverso da lottare contro l'algoritmo il regime dell'algoritmo invece ad usare un algoritmo cose a nostro favore di partecipare e Sono state delle cooperative con delle condizioni di lavoro completamente differenti, invertire il modello, non una piattaforma che concentra tutto il potere in un solo strumento, in un solo luogo, ma distribuire lo strumento in forma che solo le cooperative lo possono utilizzare. È una piattaforma a software libre e esistono parecchie cooperative in Europa che funzionano e funzionano bene attraverso la piattaforma, come a Lione, tre bullotte a Lione, mall and bike a Bruxelles, a Berlino, a Bordeaux, lo stesso Parigi e qui a Madrid. Abbiamo deciso poi di organizzare un vero e proprio sciopero. Questo appunto è avvenuto, io lo ricordo sempre come episodio, perché è stato per noi un punto, diciamo, importante in cui abbiamo rotto un po' il velo di invisibilità. E' stato appunto il novembre ormai di due anni fa una grande nevicata qua a Bologna, le piattaforme tutte quante ci volevano costringere comunque a scendere in strada e a lavorare e invece c'è stata una risposta, un'insubordinazione da parte della maggioranza dei riders dicendo la mia vita non vale una pizza. E quindi insomma c'è stato uno sciopero che ha di fatto bloccato il servizio qua a Bologna e che appunto i nostri capi non si aspettavano e che però dà un segnale fortissimo e da lì diciamo è stata un po' la nascita di Rider Sun in Bologna. Ci siamo fatti conoscere a tutta la città, c'è stata una risposta molto importante anche da un punto di vista di solidarietà, di empatia, di vicinanza da parte dei clienti, degli stessi esercizi commerciali e insomma più in generale della cittadinanza. E quindi da quel giorno anche noi insomma siamo cresciuti e siamo andati avanti come Rider Sun. Abbiamo stilato una nostra lista di rivendicazioni che posso insomma sintetizzare innanzitutto avere una copertura assicurativa INAIL, quella insomma che dovrebbero avere tutti i lavoratori dipendenti, un monte ore garantito, quindi sapere quanto e quando lavorerai, avere appunto la malattia, le ferie, i contributi, insomma una serie di punti che in quanto lavoratori noi chiediamo. Grazie a tutti.